Buonasera a tutti, per chi non ci conosce essere, noi siamo in Burn Inside e siamo molto felici di essere qui, soprattutto perché, permettetemi di dirvelo poche volte si riscontrano nei locali una cortesia, simpatia e professionalità da chi gestisce i locali quindi siamo molto contenti un applauso alla nostra inspeccionale Grazie 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 no 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 no